Sono Moreno Cedroni, mi trovo nel mio ristorante a Marzocca di Senigallia che ho aperto 34 anni fa. Ho iniziato in un modo molto semplice con i piatti della mia tradizione che conoscevo e conosco molto bene perché mia nonna e mia mamma cucinavano benissimo e quindi mi hanno messo nel mio DNA quei sapori. Nel corso degli anni la cosa a cui ho sempre puntato è stata la qualità del posto di lavoro. In questo senso la cucina negli ultimi anni è diventata un laboratorio tecnologico dove le attrezzature sono all'avanguardia di ultima generazione e permettono di lavorare con la massima tranquillità per fare poi un lavoro che non è per niente tranquillo. Io per primo durante il servizio faccio cucina attiva e la mia postazione è davanti alla cucina. Sono passato all'induzione da poco e devo dire che ne ho avuto grandi benefici. Se posso fare un paragone nel campo delle automobili è come aver guidato sempre un'auto con il cambio a mano e poi si passa al cambio automatico. Naturalmente c'è un primo periodo di adeguamento e di assestamento e poi scopri dei benefici che non avresti mai pensato e in quel momento dici accidenti come ho fatto fino adesso, nel mio caso come ho fatto per 33 anni a cucinare senza induzione. Praticamente la distribuzione del calore nella pentola è uniforme, ogni punto ha la potenza che tu gli dai. Quindi definita l'induzione da un anno a questa parte ha sicuramente modificato il nostro modo di cucinare. Sicuramente meglio, sicuramente una cucina più rilassata, più precisa, più costante. Grazie per la visione!